Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di una giovane casa tedesca di orologeria, stavolta non in Glashutte ma a Dresda, e Glashutte è vicino a Dresda, sempre in Sassonia siamo, e si chiama Lange und Heine. Ecco, io non so se la pronuncia si è proprio esatta, sul tedesco non solo non lo capisco, ma ho parecchie difficoltà. Questa casa, pensate che fa ogni anno 50 orologi e ha come sogno di arrivare a 200. Nello scorso video vi ho parlato di Morris Grossman, stavolta Glashutte, e questa produce, fra i 200 e i 500 orologi, Sonia di arrivare al massimo a 800.000. Chi ne fa di meno fa meglio? Non è detto, non è sempre vero. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Sì, in linea di massima tra i numeri di produzione e le finiture manuali vi è un rapporto, certamente. Sopra certi numeri le finiture manuali diventano un miraggio, diventano impossibili. Stabilire quale sia questo numero non è esattamente possibile. Io stesso ho pensato, fino a qualche anno fa, che sopra i 1500-2000 orologi l'anno le finiture a mano cominciassero a calare molto. Poi però qualche esempio di orologi prodotti a numeri un po' superiori mi hanno fatto pensare che forse qualcosa ancora sopra i 10.000 orologi l'anno sia possibile, ma è chiaro che poi se ci si allontana molto da quella cifra, le finiture manuali non ci sono più. Questo bisogna che ce lo diciamo chiaramente. Perché servirebbe un esercito di artigiani che lavorano contemporaneamente a queste finiture, che sono costose da fare e non è immaginabile. E' anche una questione di tempo che si impiega. E il tempo è anche costo, oltre a dover renumerare il lavoro di tante persone che si fanno pagare peraltro molto, molto care. Certo però l'orologeria tedesca è stata, ed è un esempio di qualità veramente notevole e straordinaria. E devo dire che non smetto di scoprire perle made in Sassogna, made in Dresda o nei dintorni di Dresda come Glashutte. Abbiamo già visto diverse case di Glashutte, ma ancora non tutte, perché non abbiamo ancora finito. Ma stavolta ci spostiamo nella vicina Dresda. A Dresda nel 2001 Marco Lang e Mirko Heine hanno fondato Lang & Heine, un'azienda che produce pochi orologi, come ho detto, di alto livello, proprio di livello molto alto, non c'è il minimo dubbio. Nel 2003 però Marco Heine lascia l'azienda e si trasferisce a Nomos, diventa uno dei creatori di Nomos. Anche questa Glashutte, cosa curiosa da tenere presente. Ma poiché i due si lasciano bene, rimane il marchio Lang & Heine, anche se Heine non c'è più. Mark Lang è un orologiaio d'altronde di grande talento, un orologiaio che, indovinate un po', ha fatto le sue ossa a Glashutte, sembra un gioco questo ricorso di nomi, e è un orologiaio di una famiglia di antichi orologiai tedeschi. Siamo alla quinta generazione con Marco Lang. E Marco Lang fa parte dell'AHCI, cioè dell'Associazione degli Orologiai Indipendenti, quindi è riconosciuto e certificato come un maestro orologiaio indipendente. E lui porterà avanti lo sviluppo, da solo diciamo così, di questa azienda. Adesso vi dico una cosa che però va presa col beneficio di inventario. Qualcuno mi ha detto che in realtà persino Marco Lang non sarebbe più nell'azienda. Ora, io ho cercato conferme di questa notizia, non le ho trovate. Anzi, ho trovato traccia che almeno ancora fino al 2019-2020 lui c'era sicuramente. Mi auguro che ci sia ancora, perché quando poi le aziende cambiano proprietà così, e soprattutto gli orologiai di riferimento, in genere non è mai un bel segno. Poi ci possono essere anche, come posso dire, delle eccezioni che confermano la regola. Però ve lo dico perché non sono riuscito a trovare una sola conferma di questa notizia, e quindi non la considero confermata, anche se la fonte era autorevole. Per cui per il momento vi dico che Marco Lang dovrebbe essere ancora lì, nella sua azienda. Marco Lang, peraltro, ha anche fondato, non vi so dire in che anno, un'altra realtà tedesca piuttosto interessante, che si chiama UVWD, che è un fabbricante di calibri, di minor livello di questi ovviamente, tutt'altro livello, una sorta di etta tedesca, che vuole fornire calibri commerciali ad altre aziende. E infatti uno dei primissimi orologi a montare uno di questi calibri, fatto dalla UVWD, che fa anche alcune cose per Lang Heine, è Zinn, Zinn col calibro 6200, che è un calibro esclusivo per Zinn, ma è fatto da UVWD, di marca Lang. Ok, fatta questa premessa, passiamo alla casa e agli orologi. Allora, io non vi farò un elenco completo di tutti gli orologi, perché in realtà questa casa ha debuttato con un solo tempo. Un solo tempo di nome Joanna. Questo orologio ha una cassa piuttosto classica, che è un quadrante che non è smalto Gran Feu in questo caso, di 43,5 mm di diametro, ma ci interessa il calibro 1, che è il primo calibro che loro definiscono di manifattura. Ora, in realtà, a guardare bene, mettendolo a confronto, io avevo il sospetto che somigliasse ad un Unitas, questo è un 6497, montato su un Glycin, e vedete che infatti ci assomiglia molto. E infatti poi, cercando bene, è venuto fuori che in realtà Mark Lang disse che aveva preso proprio l'Unitas come riferimento, ma che però era un punto di riferimento. In realtà il calibro era tutto nuovo e tutto loro. Ma io ho da queste foto dei dubbi. Certo, finiture incomparabili, platina a tre quarti, però vedete dove sono disposti i rubini e si capiscono molte cose. Quindi certo, ritroviamo tutti i tratti dell'orologeria sassone, cioè la platina a tre quarti, stavolta proprio tre quarti, non due terzi come Morris Grossman, abbiamo l'uso dell'argentone, cioè dell'alpacca naturale, abbiamo i castoni dei rubini avvitati con vite azzurrate, e abbiamo il ponte del bilanciere inciso a mano. Insomma, il livello di finitura è totalmente ovviamente diverso di quello di un Glycine o con calibro Unitas, però ecco, in questo loro primo calibro qualcosa c'è. C'è anche la finitura Frosted, che loro usano molto, ed era tipica degli orologi sassoni di alta qualità. c'è proprio questo contrasto, lo vedremo meglio in altri calibri, tra basi Frosted, quindi anche non lucide, il contrario di lucide e parti lucidate a specchio, lo vedremo in calibri più importanti, più prestigiosi, ma questo era per dare un'idea. Ecco, loro hanno fatto tantissimi modelli, io i nomi non riesco neanche a ricordarli tutti, Frédéric II, Frédéric III, poi abbiamo appunto questo Johann, poi insomma ne abbiamo veramente tantissimi. Di solo tempo con cassa tonda, a volte hanno anche il quadrante in smalto Grand Feu, anzi abbastanza spesso. Ci sono anche modelli, un modello era chiamato Champelvet, perché aveva tutto il quadrante, lo vedete qui in smalto Champelvet. Allora ricordo, io ne ho già parlato alla voce finiture, cosa significa lo smalto Champelvet. Champelvet vuol dire che prima un incisore a mano col bulino individua delle aree, proprio le ritaglia, cioè toglie del materiale e ricava dei luoghi in cui poi verrà messa la polvere di smalto, dei diversi colori, che poi passerà i vari passaggi di cottura al forno a 800 gradi, magari anche 15 passaggi di cottura, perché ogni strato va ricotto, e ogni cottura è un rischio, perché basta poco che si crepi il quadrante e si butta via tutto. Quindi questo tipo di smaltatura è molto costoso da realizzare, è altissimamente artigianale, rende il quadrante perenne e è veramente bello. Quindi Champelvet, perché si distingue dal cloisonné usato da Patek Philippe, per esempio a piene mani nelle pendolette al quarzo, ahimè, ma anche sul 51-31, le ore del mondo, con lo smalto centrale, è Champelvet, è cloisonné, perché lì non c'è un ritaglio col bulino che viene colmato con la pasta di smalto, ma c'è invece un disegno a filo d'oro delle diverse zone di colore e di stesura dello smalto, quindi è una tecnica diversa. Poi c'è anche la paionnè, ma insomma non ne parliamo in questa serie. E poi appunto ci sono smalti gran feu, ci sono stili anche un pochino barocchi in certi casi, che proprio si rifanno alla tradizione degli orologi da tasca tedeschi del Settecento, quindi prima dell'Ottocento, quando poi assumono una veste più pulita, soprattutto quelli appunto Lange, Haussmann, eccetera, eccetera. Ma non sono questi che mi hanno impressionato. Quello che mi ha lasciato il cuore è il Georg, è l'Anton. E prima di tutto il Georg. Vediamolo subito e parliamone subito. Guardate questo orologio, 40x32 mm, quindi indossabile, solo 9,5 mm di spessore. e guardate la Carur, tutta finemente scanalata in orizzontale, e guardate questa meraviglia di calibro, di forma, dove c'è una base, frosted, e spiccano i ponti a braccio, lucidati a specchio in acciaio, con le viti azzurrate. Veramente, veramente superbo da ogni punto di vista è qualcosa di... Veramente, a me, la visione di questo calibro mi fa dire, beh, guardate il diamante al centro del bilanciere, mi fa veramente dire, ecco, qui non ci sono i castoni d'oro avvitati, vedete, c'è questa soluzione, ma sono bellissime le pietre così, mi fa veramente dire, c'è speranza ancora per l'altro l'orologeria, e certo, dopo aver visto un calibro così, uno dice, ma... Quanto costa la domanda delle domande? Beh, io ho visto che questo orologio costerebbe di listino in questa versione, sono tutti in metallo prezioso, dall'oro rosa, il platino, oro bianco, non c'è l'oro giallo, purtroppo, ma, praticamente, io ho visto che il listino sta sui 29.000 euro più IVA, più IVA, quindi, quindi, quindi siamo sui 35.000, beh, per uno, certo, è solo un solo tempo, tre sfere, ma, ma voi guardate che roba, ma voi guardate che roba, e veramente, cioè, e qui non c'è più traccia dell'Unitas, è qui proprio, l'Unitas non c'entra niente, io credo che sia superbo, sia semplicemente magnifico, e abbia anche un prezzo quasi incredibile rispetto alla concorrenza, ma se questo è già bello, c'è poi una versione superiore, che è l'Anton, che è praticamente la versione tourbillon volante, e sapete qual è la cosa bella? La cosa bella è che l'Anton, pur essendo il tourbillon volante, ha le stesse dimensioni di cassa, non è né più spesso, né più grande, e poi faccio notare, 40 mm per 32, guardate anche le anse, sono cortissime, e sono anche molto incurvate, le anse sono tre, e non è un caso, perché, questo è un segno distintivo di Lang Undyne, e c'è in tutti i loro orologi, ma era ripreso dal passato, quando no, bisognava avere tre anse per dare un'idea di maggior solidità, ma sono anse che lo rendono ancora più indossabile, e poi lo spessore ridotto, è una meraviglia, guardate, dicevo, Anton, tourbillon volante, con gabbia a forma di lira splendida, impegnata in basso, stesse dimensioni, dicevo, voi vedete poi il calibro, che ha un fondello simile al precedente, e qui vedete una caratteristica, cioè che praticamente oltre, cioè, ci sono due diamanti posti a lato del nome della casa sulla platina, non essendoci il diamante come controperno del bilanciere come sugli altri calibri, perché è sul lato quadrante e comunque sul tourbillon loro non hanno messo, hanno messo un rubino, misteri della fede. Se qualcuno ne sa la ragione è pregato di spiegarlo se esiste una ragione tecnica, Lange mette il diamante sui tourbillon ma mette il rubino sugli altri calibri, qui succede l'inverso, il prezzo di questa meraviglia sta sui 85-90 mila euro, anche qui, certo, aggiungiamoci l'iva ma per un tourbillon volante poi fatto in questo modo non è tanto, non è tanto, quindi complimenti anche al prezzo, questo veramente è un calibro che anche nel solo tempo mi manda letteralmente fuori di senno. E se avesse ancora la propensione all'acquisto forte, feroce che avevo anni fa sarei già passato alla cassa. Oggi acquisto meno e da una parte sono contento perché è indicatore di una maturità maggiore di scelte più ponderate ma dall'altro forse sto esagerando perché ci sono delle bellezze che pian piano mi stanno scappando di mano. Passiamo ora all'Augustus che è il più grande perché 44 mm per 12 mm ma attenzione perché questo orologio non ha un calendario perpetuo ha un calendario completo con una incredibile indicazione di ricordo degli anniversari e adesso vi spiego come funziona almeno ci provo. Ecco voi vedete che a ore 12 l'indicatore dei mesi ha una doppia sfera perché c'è la sfera quella che indica il mese corrente quella nera e quella invece è oro indica la data dell'anniversario che hai scelto di ricordare la cui date esatte è riportata sopra dopodiché sotto c'è il nome e il titolo a cui tu hai dato a quell'anniversario. Qui urge una premessa se ho ben capito questo Augustus viene personalizzato dal cliente cioè il cliente sceglie un totale di 12 eventi anniversari date di compleanno eccetera che intende e questi eventi vengono visualizzati cioè la persona sceglie l'evento da visualizzare tra i 12 che ha un titolo appare nella finestrella appare la data esatta e quelle due sfere nell'indicatore dei mesi ti dice quanto manca in termini di mese all'evento di cui tu conosci la data esatta perché è sopra in questo modo tu hai tutto il tempo di preparare un regalo una festa eccetera eccetera cioè è una funzione che non si è mai vista il problema è che non ho capito neanche se si è mai vista in questo l'orologio perché allora è un orologio che è uscito verso il 2017 sul sito di Langenleine dice che non è in vendita quindi io non capisco lo produrranno non l'hanno prodotto poi tra l'altro questa veste che a me non piace questa estetica però loro hanno già detto che la rivedranno ma ancora sul sito c'è solo quella quindi non capisco bene questa situazione di questo Augustus è un prototipo ma ora guardate il bello cioè la meraviglia del calibro c'è bisogno di dire qualcosa io non credo credo che le immagini le decorazioni tutto parlino di sé questa base è sempre frosted che contrasta con elementi lucidati a specchio e lavorazioni incredibili ecco questo invece è esistito l'hanno presentato nel 2012 l'hanno prodotto si tratta di un calendario completo qualcuno dice perpetuo ed è probabile che sia perpetuo che ha delle originalità notevoli dunque anzitutto noi vediamo qui stiamo vedendo adesso in un castone d'oro l'indicazione delle 24 ore la luna il disco della luna il disco della terra sono d'oro massiccio e sono decorati e lavorati in champelvé con smalto avete già visto che c'è qualcosa di molto strano in questo orologio questa indicazione questa indicazione indica il grado di inclinazione dei raggi del sole rispetto alla terra all'equatore ora come sapete l'asse di rotazione della terra è inclinato rispetto alla traiettoria elittica che compie rispetto al sole di 23 gradi quindi questo questi due fattori fa sì che l'incidenza c'è il grado con cui i raggi del sole colpiscono la superficie terrestre vari sensibilmente durante l'anno ecco questo orologio ne tiene conto e cosa serve serve per capire diciamo così la anzi mi correggo serve per determinare il sorgere il tramontale del sole non è molto chiaro nemmeno a me come questo funzioni ma così è e così è venduto l'orologio l'orologio ha le stesse dimensioni dell'augustus quello che non è mai stato prodotto forse sì o forse no neanche si capisce cioè 44 mm per 12,5 mm e costava nel 2012 44.500 euro circa più IVA quindi comunque si saliva non ho idea di cosa costi oggi è difficile trovare informazioni è difficile esattamente capire che tipo di calendario fosse se appunto completo come dice il sito o perpetuo come sembra più ragionevole come qualche altro sito di orologia scrive diciamo la verità non è facile avere informazioni sugli orologi Lang e Haine io ho cercato di fare il possibile per darvi un'idea naturalmente sta a voi approfondire siamo in presenza di un costruttore sassone che ha delle caratteristiche particolari come appunto una certa eleganza un certo contenimento delle dimensioni un'estetica dei calibri uniche per me è molto bella soprattutto quella del modello davvero fatto interamente da loro il Georg e l'Anton e siamo in presenza di finiture sensazionali veramente di belle casse di orologi indossabili e prezzi che tutto sommato in rapporto a tutto questo non sembrano neanche altissimi peccato per altre incertezze sulla presenza di Marco Lang che appunto vi ho già detto su altre cose che non permettono di capire esattamente la situazione spero che qualcuno che conosce meglio il marchio possa indurmi a fare magari un altro video in cui do tutte le informazioni mancanti insomma casa interessante da seguire da approfondire e vicenda orologena interessante di Mark Lang che ha anche questa sorta costruito questa specie nelle intenzioni di venire etta una sorta di etta tedesca fornitrice di calibri finora io ho trovato traccia fornito sull'usin 6200 grazie e al prossimo video